ciao pioi ecco qua tutto quanto si è pronto adesso questa è la parmigiana che ho fatto con un po' del sughetto che avevo non lo metto via niente ho i zucchini a panai quindi ne avevo un altro idò cioè i guattaggiai e i guattagni a panai ho gli ovi alla diamola che ho messo un po' di tinte e peperoncino dentro e sono molto molto buoni come ho fatto i piattini col vino e ora melanzana ho i spaghetti in frigo fatti tutti dentro nei piattini che mangio proprio maniemo maniemo quello che riesce dentro e anche quello che viene ora è bisogno ciao buon appetito e buon giorno ciao ciao ciao